Le agenti della Polizia di Stato della Digos di Salerno hanno denunciato alla Procura della Repubblica un salernitano di 39 anni per oltraggio a corpo politico e distigazione a delinquere. L'attività di Polizia Giudiziaria ha preso le mosse da una segnalazione anonima giunta agli agenti della Digos, relativa ad un commento oltraggioso ed offensivo nei confronti delle forze dell'ordine postato dall'uomo sul social Facebook. Le parole dal significato chiaramente offensivo nonché istigatori a commettere violenza anche con l'uso delle armi verso gli appartenenti alle forze dell'ordine erano state proferite in riferimento ad un video che riprendeva l'attività degli agenti intenti a far rispettare il divieto di manifestazioni pubbliche in occasione della cosiddetta passeggiata partigiana di Milano organizzata lo scorso 25 aprile. Dai successivi accertamenti di agenti della Digos sono risaliti in breve tempo all'identità del post incriminato procedendo alla successiva denuncia a piede libero all'autorità giudiziaria.